Doveva recarsi il commissariato di polizia di Niscemi per ottemperare all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria che era sottoposto come misura cautelare, ma guidava la sua autovettura senza patente e sprovvisto di copertura assicurativa. Così gli agenti del commissariato niscemese hanno denunciato il 32enne CR e le sue iniziali, pluripergiudicato niscemese per reati contro il patrimonio, poiché circolava alla guida di un'autovettura senza patente in quanto revocata. Durante un normale posto di blocco gli agenti notavano il giovane pluripergiudicato alla guida di una Fiat 500 e alla vista della pattuglia cercava di eludere il controllo accelerando bruscamente la marcia. Fermato il veicolo alla richiesta di esibire la patente di guida e relativi documenti dell'autovettura in questione, il pregiudicato esibiva solamente la carta di circolazione, riferendo di non avere l'assicurazione del veicolo e di non avere neppure la patente di guida che dagli accertamenti della polizia è poi risultata essere revocata con provvedimento del prefetto di Caltanissetta. Il 32enne ha tentato di giustificarsi riferendo che si stava recando al commissariato per ottemperare all'obbligo di presentazione cui era sottoposto, ma a quel punto i poliziotti niscemesi hanno contestato al giovane il reato di guida senza patente, sequestrando inoltre il mezzo. CR è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela. A Gela invece questa notte per cause ancora in corso di accertamento ha preso fuoco in via Sicilia l'autovettura una Renault Clio di proprietà del 55enne ME. Le fiamme hanno inoltre causato danni anche al portone d'ingresso e al prospetto del piano terra dell'immobile sito al Civico 97 della stessa via. Indaga la polizia.